... Legend Cars, una nuova frontiera per correre in pista ad un prezzo veramente ragionevole. E le ha portate in Italia Adriano Monti, patron dell'autodromo-motodromo del Castelletto di Branduzzo che ci racconta di queste simpatiche e divertenti vetturetti. Intanto buongiorno a tutti e benvenuti al motodromo. In effetti, come diceva, le Legend Cars siamo importatori ufficiali perché avevamo la necessità in questi ultimi tempi di crisi di togliere un po' di nubi grigi dalla mente e di cercare qualcosa di sicuro, di divertente e a un prezzo molto ragionevole. Per quello ci è venuto in mente di essere importatori ufficiali per l'Italia delle Legend Cars e al momento siamo molto contenti perché la gente che le ha acquistate si diverte molto, i prezzi sono veramente bassi e noi ne aspettiamo altro che fare dei campionati che penso e credo che la XAE ci danno una mano per portarle avanti. Queste macchine sono delle vetture che hanno un ottimo rapporto peso-potenza, siamo su una media di 120-130 cavalli per 480-500 kg. Hanno una tenuta di strada da kart, hanno un grossissimo pregio che è quello della sicurezza attiva e passiva poiché siamo seduti con un kart ma con un roll bar veramente efficiente e poi la simpatia delle loro carrozzerie che provengono dagli anni 30 e 40 degli Stati Uniti ha fatto sì che il successo sia quasi immediato. Grazie a tutti.